Inizio in un'azmari no Saka Fondo, Inter, Inzaghi, il監督. È un migliorno勝利ato. È una partita a cui tenevamo tanto. Una squadra fortissima. Come pari, è stato un buonissimo allenamento. Chiaramente dobbiamo migliorare la condizione. Tante cose. Però abbiamo ancora tre settimane che si stavo in un'estero tipo di Wolverine. È stato un' совершione. È stato un' pentosa. E' stato un'azmante. Siamo davvero molto piaciuta. Abbiamo ancora tutto nel 3 settembre. Inizio inizio a suonare. Questa è di una condizione. Ma il nostro Dima è inizio. Il giro a crescendo in un'azmante. Come pari, il giro al tempo. Questa è un'azmante. No, chiaramente sappiamo la forza della squadra che giocavamo a Parigi, una squadra con ottimi calciatori, palleggia molto bene, abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale, perché abbiamo trovato una squadra molto forte tecnicamente, poi siamo stati bravi ad organizzarci, abbiamo fatto un ottimo test. Sì, ma è stato molto forte, ma non è stato un gruppo di più, ma non è stato molto molto difficile, ma poi abbiamo fatto un gruppo di corso e il corso di più edifici, quindi il gruppo di più di più, quindi molto piaciuto. Molto di corso di corso di corso di corso di corso, però non è stato un'ottima Ma ci siamo allenati forti e bene in Giappone, abbiamo trovato ottime strutture sia usate che qui a Tokyo abbiamo lavorato bene, chiaramente i campi di lavoro sono alti quindi c'era il rischio di fare tanta fatica stasera che abbiamo fatto. Sì, ho fatto molto forte, ma anche in Osaka e in Tokyo sono molto strutture, quindi è stato molto buon strutture, quindi è stato molto buon trutture. E oggi abbiamo trovato molte cose, ma è stato molto bello. Un saluto a tutto Giappone, sappiamo che abbiamo tanti fan qui, tanti tifosi interisti e le ringraziamo per l'accoglienza che abbiamo avuto in questa tournée che per noi è stata molto importante, che la nostra preparazione per l'inizio del campionato sia ottima. Grazie.